A Carrara di Fano si è verificato un episodio di truffa ai danni di una signora di 91 anni all'interno della sua abitazione. Il fatto è accaduto sabato scorso, intorno alle 11.30 circa, quando alla porta di casa si è presentato un uomo sui 30-40 anni, vestito con abbigliamento blu scuro e un cartellino posto sul lato sinistro della presunta divisa, presentandosi alla 91enne come ha detto dell'acquedotto, con la scusa di verificare una perdita di acqua nel bagno. La signora in buona fede ha condotto l'uomo nella zona interessata. Il ladro nel frattempo gli ha spruzzato addosso uno spray irritante che ha disorientato in parte la vittima, provocando un'irritazione in gola. Dopodiché, spostandosi nella zona giorno con la scusa del gas e della possibile esplosione dei condotti, l'uomo ha intimato la signora di raccogliere i suoi beni d'oro, il denaro restante della pensione, inserendoli in una busta di plastica, per poi collocarla all'interno del frigorifero, convincendo l'anziana che sarebbero stati al sicuro dalle eventuali fiamme. Andando ad avvisare l'avvicinato, il malvivente ha preso la busta contenente l'are furtiva della signora, tra cui un cogliere e 100 euro restanti della pensione, e si è dato alla fuga. Sul posto sono arrivati i carabinieri. La signora non ha riportato lesioni o danni fisici, ma soltanto uno shock psicologico. Secondo delle testimonianze di vicinato e della nipote della vittima, l'uomo avrebbe agito da solo senza complici, ma nella stessa mattinata e nella via interessata giravano insistentemente dei rappresentanti per la sottoscrizione di contratti a domicilio sull'episodio Verrasporta Denuncia.